Togliamo la morsa del patto di stabilità che strozza gli investimenti, bene la fusione delle amministrazioni, rendiamo più semplice la burocrazia e si distingua tra comuni virtuosi e non. I comuni toscani non ci stanno a fare da parafulmine ai problemi di legittimità dello Stato e dal congresso regionale del Lanci, che si è tenuto a Palazzo Vecchio, lanciano un messaggio al Governo. Vogliamo il ruolo che ci spetta. Quello che dico è che accanto ai sacrifici che vengono chiesti ai comuni, riduzione di trasferimento, semplificazione delle partecipate, riduzione degli sprechi con i dati alla mano, perché i risultati ci sono stati, ci vengono dati anche strumenti per far bene, e cioè patto di stabilità, e cioè incentivi a chi unifica i comuni, incentivi a chi semplifica le imprese. Si potrà distinguere tra il comune che riesce a semplificare le partecipate e quelli che invece non ci riescono? Nardella loda le mosse del Governo Renzi, ci vuole più flessibilità che del Sindaco di Firenze, ma non dimentichiamo il ruolo che avranno le città metropolitane dal primo gennaio prossimo. Io mi aspetto dal Governo una presenza forte e incisiva, perché la città metropolitana non diventi una sorta di pecora nera nel sistema regionale. Le città metropolitane non sono un contraltare delle regioni, lo dico anche nel mio ruolo di coordinatore dei sindaci delle città metropolitane. Noi non siamo e non saremo i contraltari delle regioni. Al congresso del Lanci regionale c'era l'assessore al lavoro Gianfranco Simoncini, rappresentanza della regione. Anche Simoncini ha battuto il ferro sul patto di stabilità, sulla necessità di allargare la borsa della spesa pubblica, così come ha chiesto nei giorni scorsi direttamente a Bruxelles il presidente Rossi. Ma con la nascita della città metropolitana c'è il rischio che nasca un ente che faccia da contraltare alla regione. Uno dei rischi che viene paventato è appunto quello che la città metropolitana rappresenti un elemento anche di contrasto rispetto agli altri territori. Io credo che l'esperienza toscana, che è di valorizzazione dei territori, di capacità, come dire, nonostante i municipalismi e i campanilismi che sono storici del nostro territorio, però di lavorare per il bene comune anche in questa fase storia si realizzerà. Il rischio di una contrapposizione città metropolitana-regione dunque non si pone. L'esperienza toscana è fatta di campanilismi, ma la regione si impegna comunque a lavorare in forte sinergia con l'Anci, che esce rinnovata al 14esimo congresso regionale.